Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, vediamo se funziona tutto, oggi proviamo in diretta che è tardissimo, ci vediamo questa sera a Ring alle 21.05 su Tele4, lancerà la sua candidatura, vediamo Francesco Russo, spero che sia tutto attivo adesso, va bene, insomma, comunque speriamo. Cominciamo davanino al 10 dicembre, c'è un grandissimo Renzo Tondo, non so se siete d'accordo, ma almeno per il come l'ha detto, per come l'ha fatto, ieri alla Camera l'ex governatore del Fulenzia Giulia cosa ha detto? Io mi autodenuncio, cambiate queste regole, anche se Speranza le ha confermate, perché io a Natale voglio andare dal mio figlio, abito in Carnia, qui spostarsi di poco vuol dire semplicemente andare dal prato al bosco, perché in Carnia funziona in questa maniera, continuano a telefonarmi, speriamo funzioni, perché voglio andare dal mio figlio che è appena 4 km da casa mia, e quindi ci andrò anche se in un altro comune, mi autodenuncio, così ha detto Renzo Tondo ieri pomeriggio alla Camera e con ovviamente un'ovazione, visto che è stato l'articolo più letto di fatto della giornata di ieri sul sito ferdinandoavarino.it, abbiamo raccontato anche una storia particolare ieri ad Antenna 3, cioè quella di Spresiano Nervesa, due comuni vicini che sono confinanti e lì c'è la casa di un residente che ha praticamente l'abitazione in un comune, il cortile, il giardino in un altro, e quindi anche andare a prendere la posta al cancello per lui, anche per fare questa semplice operazione, sarebbe necessaria l'autocertificazione, è chiaro che è un paradosso, insomma una storia divertente, ma che lì si ferma. Ieri, quindi abbiamo raccontato con Christian Arboit molto bene, il problema dei dati, sapete che da giorni il Veneto risulta la regione con il maggior numero di contagi, non c'è uniformità, lo diciamo subito, cioè lo stesso governo nel ricevere le comunicazioni di questi dati ha differenze che sono fondamentali, cioè il Veneto da almeno una settimana circa comunica e include anche i tamponi rapidi, mentre le altre regioni, forse una o due, credo di Florenzia Giulia, ma comunque pochissime, sono incluse in questo sistema uguale a quello del Veneto, tutte le altre no. Cosa succede? Che chiaramente risultano più positivi, perché vengono conteggiati tutti nella percentuale molecolari, senza includere anche i rapidi, questo lo diciamo ormai da mesi, lo ha ribadito molto bene ieri Luca Zaia che era incavolato veramente tanto. Il governo dovrebbe pretendere ovviamente, oltre al fatto di avere un'uniformità in questi dati, che tutte le regioni comunichino gli stessi, ma è una pretesa che noi da cittadini dovremmo avere, perché altrimenti è inutile analizzare ogni giorno tutti questi dati, far sembrare il Veneto la regione più pericolosa, col maggior numero di contagi, quando c'è un errore nella contabilizzazione di questi dati. Sul Mose cambiano le regole, c'è il Presidente del Porto che ovviamente è arrabbiato perché 17 navi erano ferme, è stato un vero problema. Ora, ieri abbiamo raccontato con l'ingegner Cecconi, anche sul sito FerdinandoAvarino.it, come è stato un problema di costi, costi-benefici. Quanto costa tenere il personale qui con una previsione di marea che il consorzio Venezia Nuova dice che è sotto il 130, il Comune invece con l'altro consorzio dice che potrebbe arrivare a 130, l'hanno scritto, c'è un verbale in cui dice attenzione, si potrebbe arrivare in questa condizione di incertezza a superare il 130, ma Spitz e Zincone hanno deciso, il provveditore e il commissario, di mandare a casa il personale, quindi riattivarlo è un macello. Da adesso cambia, questa almeno è la novità e quindi probabilmente anche con Mareda previste 100-110, almeno il personale sarebbe lì. È giusto Massimo, quante volte abbiamo detto analizziamo magari la città metropolitana, consideriamo la provincia in questo DPCM, non i paesini, ha ragione Massimo, l'avevamo detto anche a Telequattro settimana scorsa, perché altrimenti un paesino di 3.000 abitanti, i 200 abitanti, e ci sono in Italia, è penalizzato rispetto a Roma dove ci si può muovere per 40 km. Questa è poi la novità per quanto riguarda il Mose, invece che resta aperto nelle prossime ore. Sul MES avete visto, ieri abbiamo definito la supercazza una così è stato, cioè il fatto che con una frasetta di circostanza, la fin fine tutti contenti, tranne alcuni grillini. Ci sono i Veneti, Alvise Maniero, Arianna Spessotto, Raffaele Raduzzi che però non si presenta in aula, ma poi dice che crimi si dovrebbe dimettere. Cioè il MES, la risoluzione che dà mandato a Conte di andare a ratificare Europa quanto già deciso, passa. Ora però cosa succede? E' molto interessante perché 23 alla Camera e 11 al Senato, tra voti no contrari e mancanti tra i grillini, ovviamente questo apre un caso. E la cosa divertente è che come fanno a espellerli? Cioè questi grillini in realtà sono più in linea degli altri grillini, la stragrande maggioranza che invece ha votato sì a questa risoluzione. Quindi è divertente ora capire che cosa decideranno di fare. Per Maniero, insomma, è andato giù durissimo, ha anche parlato in aula nella giornata di ieri l'ex sindaco di Mira. Ma fondamentalmente hanno ragione loro dal punto di vista dei grillini, eppure i grillini oggi sono un'altra cosa. Sul recovery invece si rischia davvero la crisi, molti non credono che Renzi lo farà, invece potrebbe raperirla a gennaio, ribadisce come ci sia questo problema di governance, ma non solo per quello perché verrebbero esautorati i ministri dal loro ruolo, bisognerebbe coinvolgere l'opposizione, dice anche il leader di Italia Viva. E c'è un straordinario ministro provenzano che oggi dice però sui giornali, pari il gruppo Geli, non mi ricordo, la stampa. Dobbiamo considerare anche il 98% degli italiani che non vota Italia Viva. Come dire, Renzi fa il gradasso in Parlamento, ma un 2% di preferenze, di sondaggi, di quello che è. E in questa maniera il ministro per il Sud crede di lanciare la sua frecciatina al leader di Italia Viva, che mette in difficoltà il governo. Due aspetti molto veloci, uno riguarda lo sci, domani apre l'altro sci, cioè quello che non riguarda gli impianti, succede un po' dappertutto. Sul trasporto pubblico invece il piano c'è, ma dove? In Veneto, per esempio, che lo ha presentato ieri in conferenza stampa, ci lavora da un mese, lo fa con tutte le autorità, con l'assessore all'istruzione, l'assessore ai trasporti, la responsabile della scuola in Veneto, e attenzione c'è una differenza con il Fulenzio Giulia, poi lo diciamo, e hanno coinvolto i prefetti, esattamente come vuole il ministro Azzolina, cioè cercava il ministro Azzolina di dare indicazioni perché fossero i prefetti a occuparsi nel suo territorio, facendo arrabbiare le regioni che dicono qua ci siamo noi. Bene, la regione Veneto ha lavorato in questo mese e alla fine ha coinvolto il prefetto in questo ultimo confronto, ma il piano c'è ed è già pronto. Questo non prevede, ve lo dico subito, la scuola al mattino così come al pomeriggio, una delle ipotesi, si è scelto di non farlo in Veneto. Invece ci saranno necessari 802 bus in più, quindi ci saranno gli orari scaglionati, ma solo al mattino, un po' come fa il Fulenzio Giulia, ma adesso ne parliamo, 800 bus in più dal 7 gennaio e 771 dovranno essere dei privati. Ma questo cosa vuol dire? Che, e lo ha detto molto bene l'assessore De Verti dei trasporti del Veneto, che se partiamo oggi come vuole il ministro con il confronto e i prefetti, non riapre neanche a fine gennaio la scuola, cioè ci vuole il tempo per programmare questa cosa. Lo sappiamo che il Fulenzio Giulia ha iniziato ieri il confronto, lo farà con Gorizia domani, Udine e Pordenone la settimana prossima, e questo mi allarma un pochino perché rischiamo di essere in ritardo. Poi in realtà se vai a leggere il confronto con i prefetti che adesso hanno convocato questi confronti, c'è già un po' un piano stabilito, con gli ingressi in Fulenzio Giulia alle 7.45, alle 8.05, alle 8.25, alle 8.45, dice l'assessore Pizzimenti e Trasporti che serviranno almeno 145, 150 pullman dei privati da mettere in campo sulle strade per la riapertura della scuola il 7 gennaio, speriamo che si arrivi puntuali. Ultimi due flash sul Portovecchio, questo l'abbiamo già detto più volte, ma ci sono anche i soldi da parte della regione Fulenzio Giulia per prendere i due magazzini del compianto Maneschi, quindi più vicini a una sede importante della regione, è una cosa importante, ma tanto è già pronto il centrosinistra a lamentarsi dicendo che manca una visione di insieme, qualcosa si muove, lì si cominceranno a fare le sottostrutture ed è molto importante. Io direi che su tutto questo è meglio ascoltare Francesco Russo questa sera a ring, vediamo se lancerà la sua candidatura contro Roberto Di Piazza a Trieste, la sua associazione, che cosa sarà, farà molto riferimento al Porto, al Portovecchio, al Punto Franco, vedremo. Ci vediamo questa sera a ring alle 21.05 su Tele4, per il resto il sito ferminandoavarino.it. Buona giornata.